Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle Allora, è mercoledì, sono usciti i riassunti definitivi del capitolo e sono uscite le RAW E come sempre, qua Grazie RAW Provider per averci dato la RAW La prossima volta dacci anche i balloon Come sempre, come sempre, perché anche questa settimana è una roba indecente Tutto il capitolo, a parte pochi balloon, sono praticamente bianchi Non è stato lasciato niente Quindi, detto questo, lasciamo perdere l'introduzione Se siete qui adesso è perché volete vedere il video Altrimenti avete quittato prima Pronti, partenza, via Capitolo 1078 Il limite di fuga Nella mini-avventura vediamo Caesar e Judge insieme, uno accanto all'altro Con il resto del Germac che festeggiano E praticamente stanno, si stanno stringendo la mano Creando una nuova formazione Cioè stanno creando il Neo-Meds Vediamo proprio festeggiamenti I due orgogliosi I sottoposti che inneggiano Coriandoli dappertutto Ecco, adesso manca solo il prosciugato Come vi dicevo Cioè manca solo ed esclusivamente Queen Quindi Dai ragazzi Regalateci un sogno Andate a prendere Queen Daie, daie, daie Cominciamo Il capitolo non inizia da dove si era concluso la scorsa settimana Cioè nei sotterranei Dove Shaka è stato colpito a morte Da un colpo di pistola Ma Torniamo Al Dentro all'edificio di Heghe Dentro al Labo Phase Più precisamente Al secondo piano Dove si trovano Stussi e Jimbe Stussi in questo momento Sta parlando All'umacofono Con Sentomaru Facendogli presente Che il CP0 Era lì Proprio per Uccidere Vegapunk Era stato lì Mandato lì per uccidere Vegapunk Ma che in questo momento Sta arrivando Un'armata Della marina Pronta a radere al suolo L'intera isola Un'armata Governata Da Kizaru In cui è presente Anche Uno dei Gorosei E Hanno Preparato Una quantità Industriale Di navi Proprio per Due motivi Il primo Perché Hanno paura Di quello che sono Le ricerche Di Vegapunk E quindi Hanno paura Che le scoperte Di Vegapunk Superino Di gran lunga Le scoperte Dei Degli archeologi Di Oara Ma soprattutto Eged Non è un'isola Banalmente pacifica Non è un'isola Formata solo ed esclusivamente Da Scienziati Come era Oara Ma è un'isola Con un arsenale Devastante Cioè Basti solo pensare Ai 50 Mark 3 Dispiegati Proprio da Sentomaru Per capire E dei 4 serafini Cioè bastano 4 serafini Per capire Che là C'è un'armata Veramente Di Di tutto rispetto E infatti Il governo Ha deciso Di mandare Un dispiegamento Di forze Di molto Superiore A quello Che è Un normale Buster Call Al sentire Tutto questo Ovviamente Il Gli scienziati Che sono Lì Nella Fabirio Phase Vengono presi Dal panico E iniziano A scappare Sentomaru Ovviamente Gli fa presente Che devono Andarsene E questi Si vede Proprio Che sono In fuga Presi Totalmente Dal panico Ma totalmente Scappano via Urlando Poi a questo punto Torniamo Dentro Al Al Labo Phase Quindi siamo andati Un attimo Al piano di sotto Torniamo Di sopra Andiamo Laddove Si trovano Lilith Frankie Usop Pitagoras E S Snake L'attacco Di S Snake Il Parfum Femur Non aveva Completamente Pietrificato Frankie Tant'è vero Che Frankie Al momento È Pietrificato Da una spalla In diagonale Fino a terra E metà Del suo volto Mentre L'altra spalla Il braccio E metà volto Sono ancora liberi E lui Proprio Si rende conto Che è In una pessima Situazione E vediamo Pitagoras Che chiede A Snake Chi sia stato A darle L'ordine Ma Snake Si avvicina Pitagoras Gli pianta Una testa Un piede Sopra la testa E a quel punto Abbiamo Michael Bay Scrive Il capitolo Settimanale Di One Piece Perché Vediamo Una scena Proprio Alla Michael Bay Dove Nel momento In cui La testa Di Pitagoras Viene schiacciata Vediamo Immediatamente Dopo S Snake Che fa Due passi In avanti E dietro Di lei Una detonazione Di proporzioni Cosmiche Quindi Vediamo Un'esplosione Che sarà Panico Poco Cioè 8-10 volte Il suo fisico Per intenderci Quindi Enorme Enorme E Il resto Dei pietrificati Vengono Colpiti Dalle onde D'urto Proprio Dell'esplosione Stessa Non è chiaro E sottolineo Non è chiaro Se Questa esplosione Sia legata Allo schiacciamento Della testa Di Pitagoras O Se sia Qualcos'altro E vi spiego Il perché Perché In questo momento Abbiamo S Snake Che guarda Da una parte Come dire C'è qualcuno Dietro di me Quindi L'esplosione Potrebbe Anche Non è detto Essere legata All'intervento Di qualcun altro E' molto probabile Che sia lo schiacciamento Della testa Di Pitagoras Perché è proprio Successivo A livello narrativo Però Io non ci metto La mano sul fuoco Può anche Darsi che sia Anche qualcos'altro Lo scopriremo Quando ovviamente Uscirà il capitolo Con tutti I Balloon Leggibili Andiamo avanti Scendiamo Di un piano Andiamo al Secondo piano Del edificio A E ci ritroviamo Con Chopper Robin E Atlas Cioè Cioè Quelli Mancanti La scorsa Settimana E Atlas Fa presente Che Vegapunk Potrebbe Trovarsi In una parte Ormai In disuso E chiusa Del Centro di ricerca Cioè Quel sotterraneo Dove c'era Un laboratorio Che ora E' andato in disuso Ed è stato chiuso E quindi Il trio Decide Proprio Di andare Là In bocca Al traditore Ma andiamo avanti Perché La situazione Cambia di nuovo Di scenario Perché Per un Rapido Scursus Andiamo al piano Di sopra Vediamo Brook Che è In versione Fantasma Quindi è a terra Quasi svenuto Con il fantasma Che esce E guarda intorno Nami Che stringe A sé Edison Dicendogli Di tenere duro E Vediamo Lo scontro Che va avanti Lo scontro Tra Il serafino Di Jimbe E Sanji Piccolo Avvertimento Rispetto A quelli Che erano Gli early spoilers E Qua Si scopre Una situazione Che gli early spoilers Era presente E invece Era falsa Cioè Non c'è Sanji Che combatte Con gli free jump Sanji E Piantato A terra Proprio Fermo Orgoglioso Arrogante Con le braccia Chiuse Concerte Che guarda In maniera Imbruttentissima Jimbe Che Gli ha praticamente Piantato in faccia Un colpo Del karate Degli uomini Pesce Il serafino Jimbe Scusate E a questo punto Vediamo Sanji Con Il ricciolo Di nuovo Cambiato Quindi L'esoscheletro È attivo Che guarda Il serafino Di Jimbe E dice Tu non conosci Questo tipo Di potere Questa È la forza Dell'amore In maniera Imbruttentissima E arrogante Poi Cambiamo Di nuovo Scena Questo capitolo È Brevissimo Perché sono 15 pagine Ma è un Turbillon Di Scene varie Poche pagine Poche Immagini Piano Per piano Sta facendo Una panoramica Generalizzata Di tutto quello Che sta Succedendo In giro E infatti Saliamo di un piano Andiamo al quarto E andiamo Laddove Stanno combattendo I quattro Top Fighter E i due Serafini Solo che Quando Vediamo Lo scontro Che prosegue Ci rendiamo conto Che i Serafini Non sono più due Ne è rimasto uno Cioè Il serafino Di Orso Mentre Il serafino Di Mioc Si è Volatilizzato E ha deciso Di andare Ad affrontare I I membri Più deboli Della Ciuma Di Rufi Proprio Per fare in modo Di Indebolire Il capitano Stesso Cioè Fare in modo Che Rufi Stesso Finisca Svantaggiato In questa situazione E Rufi Cosa fa Decide Di mandare Zoro E poi Dietro di lui Kaku Ad affrontare A ricercare Ad affrontare Il serafino Di Miocca Mentre Luchi E Rufi Rimangono Proprio ad affrontare Il serafino Di Kuma A questo punto Abbiamo Un ennesimo Cambio Di scena Questo capitolo Come già vi dicevo È un tourbillon Andiamo A Marie Joise Torniamo Indietro Di tre mesi E scopriamo Che Ai Draghi Celesti Era arrivata Tre mesi fa Una telefonata Che diceva Che Vegapunk In questo momento Stava portando avanti Le ricerche Proprio di Oara E si stava Spingendo Verso Delle ricerche Che per lui Erano proibite Quindi il governo Cosa fa Decide di mandare Gli agenti Del Seferpol Proprio per Scoprire Se questa cosa È vera Oppure no Gli agenti Entrano Visitano Tutta Eged E non trovano Niente Ma nel momento In cui vengono Rimandati indietro Per tornare Verso Il Verso Marie Joise Per fare rapporto A niente Vengono catturati E messi nel Sotterraneo Dell'ex laboratorio Dei frutti del diavolo E qua Spariscono Completamente Ma A questo punto Abbiamo Di nuovo Il Questo personaggio Misterioso Che Continua a dare Informazioni Dicendo che Vuole parlare Con i Gorosei Quindi con i 5 astri E che Vegapunk Li sta tradendo Quindi Vegapunk Ha intenzione Di tradirli E Vuole Scoprire Il Il secolo vuoto E qui I 5 Mandano proprio Il CP0 Per uccidere Vegapunk E qua Scop Torniamo Al presente E vediamo Rufy Che sta lanciando Un Jet Gatling Contro il Serafino Di Orso Con Luci Che gli dà Dell'imbecille Perché dice La fiamma è ancora accesa Cosa diavolo Continui ad attaccare A cazzo di cane Che tanto Non gli fai Niente Nello stesso momento Vediamo Bonny Davanti Alla Alla Sfera Della memoria Di Kuma A terra Piangente Non è questo il momento Per parlare di Kuma E per parlare di Bonny Andremo avanti E A questo punto Veniamo a scoprire Che La Marina Ha deciso Di Mandare Cioè I 5 Astri Si hanno deciso Di mandare Il CP0 Uccidere Vegapunk Ma Come Forza di sostegno Come forza di backup Hanno deciso Di Mandare Uno dei 5 Astri Supportato E protetto Da Kizaru E Dai Marin Di tutte le basi Proprio per Andare A Eged E poter Bypassare Quello che è Il L'ordine La gerarchia Degli ordini Dei Dei Serafini E quindi Vediamo Una situazione Con Tutti i vari Vediamo Kizaru Saturn Le varie navi Un po' di Ammiragli Un po' di vice Ammiragli Che vanno proprio In guerra Verso Eged Ma Ma Il loro ordine Era quello Di andare lì E Soverchiare L'isola Distruggendo tutto Per prendere in mano Quello che c'era Rimasto Solo che Non avevano contato Che Uno dei quattro Imperatori Sarebbe apparso E la sua nave Avrebbe fatto Rotta Proprio su Eged E nello scoprire Che Rufy È lì Vediamo Akainu Particolarmente Incazzato Ma vediamo anche Uno dei draghi celesti Particolarmente Dei Gorosei Particolarmente Stranito E qua Scopriamo Una tavola Come quella Che avvenne Per il capitolo Dello scontro Di Banaro Quando Il narratore Disse Questo scontro Darà vita A un Un incidente Che Ribalterà Il mondo Ecco Qua la stessa cosa Cioè Il giorno dopo La battaglia Di Eged I risultati Di questa battaglia Daranno Vita A un Ribaltamento Totale Delle Gerarchie E Porteranno Il mondo In caos Faranno Veramente Scioccheranno Il mondo In una maniera Finora Mai Immaginata A questo punto Ci rimane Solo Il dato Importante Cioè La conclusione Del capitolo E andiamo Proprio Al piano Sotterraneo Dove si trova Il laboratorio E vediamo Il misterioso Cecchino Scendere Le scale Vediamo La sua silhouette Di spalle Andare Verso La cella Di Vegapunk Aprirla Ed entrare Dentro Subito Non vediamo Chi sia Poi In una Splash page Abbastanza Importante Scopriamo Che il traditore È York La traditrice È York E la vediamo Accucciarsi Per essere Più o meno Alla stessa Altezza Di Di stella Di Vegapunk Perché Altrimenti In altezza normale Sarebbe Molto più alta E la questione Perché Lei Ha tradito Beh Semplicemente Perché Lei voleva Rimanere Aveva Il desiderio Proprio perché Questo fa parte Della sua Programmazione Diciamolo Di Diventare L'unica Vegapunk All'interno Dell'isola E di Creare Un Un Caos Stale Da poter Diventare Una nuova Drago Celeste Il problema È che Stella Gli dice Sì Quindi tu Vuoi andare A Marijuase Pensi che Ti prenderanno E Perché Vuoi diventare Un essere Umano Così Terribile E York Lo imbruttisce Dicendo Beh La stessa cosa Che avrebbe detto Shaka Ma è morto E Non c'è bisogno Di tutti questi Vegapunk Di Vegapunk Al mondo Ne basta Solo uno E in questo momento Si chiude il capitolo E La prossima Settimana Non ci sarà Pausa L'impressione Che ho avuto In questo capitolo È che La prima fase Di Eged Oramai Sta Volgendo La conclusione Ci sono rimasti Pochi Vegapunk Perché è rimasto Edison È rimasta York Che è passata Dalla parte Malvagia E Atlas Tutti gli altri Sono persi Perché Lilith È pietrificata Pitagoras È esploso E Abbiamo Shaka A terra Detonato E c'è rimasto Il vero Vegapunk Quindi Questa prima Parte Sta per Concludersi Per poi Andare Verso La vera Guerra La vera Battaglia E L'incidente Che Darà vita A un futuro Particolarmente Sciocchante Detto questo Se vi è piaciuto il video Pollicione in alto Se non vi è piaciuto Pollicione in basso Ci sta Voglio Sentire Da voi Cosa ne pensate Di questo capitolo Scrivetelo nei commenti Qua sotto Per il resto Noi ci vediamo Stasera Proprio Su Twitch Non qua su Youtube Dove parleremo Di questi spoiler E cercheremo In maniera imbruttente Di Fare Dei primi ragionamenti Senso ovviamente Aver letto il capitolo Detto questo Vi saluto E ci vediamo Al prossimo Ciao belli La scena dove Vediamo Vediamo S Snake In modalità Michael Bay Esplosioni Dappertutto Manco i Transformers Esplode Tutto Esplode Esplode Tutto Dappertutto 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 Dappertutto